L'ipotesi di un aumento del Fondo Salva Stati Europeo e l'idea di creare dei titoli del debito dell'Unione Europea e i cosiddetti Eurobond non piace alla cancelliera tedesca Angela Merkel. Le due proposte sono sul tavolo dell'Eurogruppo a Bruxelles e ce ne parla la nostra corrispondente. Scott Ragnard avrebbe ricevuto il mandato di arresto europeo nei confronti di Julian Assange. Sono i media britannici ad annunciarlo proprio nel giorno in cui un altro dispaccio della diplomazia americana viene reso noto dal fondatore di Wikileaks. In Pakistan ora è di oltre 40 morti e decine di feriti il bilancio di un duplice attentato kamikaze avvenuto nella parte nord-occidentale del paese al confine con l'Afghanistan.